Tu con il bastonino senza niente Toh, 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 non ti ripresa a te Non c'è chi ha la bordostrada? Carica! Ma adesso c'è un cittadino di Karate Kid Vai, Simu! La macchina! La macchina! Fammi la luce! No! So far video! Simu ha ripreso tutto! Luce, dai, ne spi... Andata! E' giudicata! Ale! Ma che cosa hai detto? Fateee! Mi lo posso dire! Ti vuoi venir? Ora, non ti capo questa luce di portare a pezzanone! via io per questo rapporto l'idea l'articolo cortina un certo punto che agilità che c'è il mio md appartamento l'antica la cosa che avevo un cuore il canto e che significa fare la eeeh schiuso youtube lo metto luce la domanda si mette in grado giudici aeree stop